buonasera grazie a tutti buonasera di essere qui ancora ci sono molte persone qui dei tavoli prenotati che non sono arrivate però noi iniziamo perché non vogliamo fare molte tardi questa che voleva essere diciamo una festa diciamo del del mio compleanno che ho iniziato a chiamare 3 4 5 amici miei artisti si è trasformata poi magari mi è caduta un po la mano e quindi sono felice che si sono qua questa sera tantissimi artisti ma qualche artista anche di primissimo livello senza nulla a togliere agli altri quindi iniziamo questa sera con una alla fine una spesa una band che si ma questa sera faremo un po di jazz session un po di musicisti che si mischeranno l'uno con l'altro vorremmo fare un po di musica sperando a non troppo alto volume con il rispetto di tutti speriamo che tutto vada bene ... ... ... ... ... ... Grazie a tutti 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 Grazie a tutti